Buongiorno a tutti voi e bentornati. Ecco il numero uno della rivista Lobby della scienza della tecnica, trimestrale di divulgazione scientifica. Ecco alcuni articoli proposti. Per chi acquista il primo telescopio. I segreti della luce di Wood. La miniera di Sant'Acqua Bona. Per diventare modellisti. L'orologio preciso è radiocontrollato. La lente in ingrandimento. Il numero uno del Lobby della scienza della tecnica è uscita il primo marzo del 2006. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per i prossimi nostri video. Grazie. Grazie. Grazie.